Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video. Io sono Re Klaus e oggi siamo qui con un gameplay. Cosa andremo a fare? Andremo a comprare nel negozio oggetti la nuova arma. Ultima parola, una nuova pistola raga appena uscita, oggi che è giovedì come vi avevo già avvertito. Cosa andremo a fare sostanzialmente raga? La porteremo al 130, full perk, la proveremo in partita e in caso la regalerò pure a qualcuno di voi mediante un contest. Detto ciò raga, andiamo subito a comprare questa nuova pistola. Eccola qui, era l'ultima parola acquistata. Non costa manco troppo raga, 1680 di oro nella media. Nella media, andiamo subito su progetti. Cerchiamola qui, per tutti questi progetti. Eccola qui, mettiamola pure a fare i preferiti. Ok, così non dovremmo avere fatica nel trovarla più tardi, eccola qui. E andiamo subito a leggere, e un po' il tutto. Descrizione raga, pistola revolver. È una revolver da media distanza con un caricatore limitato, ma che infligge molti danni per 6 colpi alla testa. È lento, ma preciso, quando si prende la mira. Oppure, puoi aprire il fuoco senza mirare per sparare una scarica di proiettili meno precisa, ma che infligge più danni. Ok, nulla di complicato raga. Vediamo un po'. Danni, dimensione caricatore, velocità di ricarica. Ma non ce l'hanno data proprio perfetta. Quindi toccherà cambiargli un po' di perk. Come mi avete chiesto l'ultima volta, non schippare questa parte, non fare l'effetto magia, che te la ritrovi già al 130 full perk. Facci vedere un po' come funziona. E va bene raga, potenziamo l'acqua, niente, basta semplicemente alzarla di livello. Sto zitto così posso almeno mandare la velocità per 2. E nulla. Ed eccola qui, livello massimo raggiunto. Però noi non ci accontentiamo, la portiamo pure full perk leggendari. Cosa bisogna fare? Potenziamento, modifica vantaggi e inizia a modificarli. Allora, velocità di ricarica, io la lascio. Elemento, per forza energia raga. No, fisico non mi va bene. Energia. Dimensione caricatore, no, non mi piace. Invece questo, ma io direi, sono molto indeciso se mettere danni da colpo alla testa, perché l'ultima perk ti induce un po' più a prendere il colpo di mirare alla testa, però non mi ispira tantissimo. Non so soltanto che questo dimensione caricatore regalo, lo leviamo sicuramente. Qua possiamo tenere, sì, possiamo cambiare qualcosina. Mettiamo livello critico per avere la combo con i danni critici. Livello critico e danni critici. Però qua dobbiamo cambiarlo per forza, perché non mi sta bene. Non mi sta bene. Danni da colpo alla testa. Ci sto pensando parecchio raga, perché è difficile come scelta. Io direi... Direi, direi, direi... Sì raga dai, proviamo così in caso dopo cambierò. Detto ciò, maxiamogli le perk. Basta cliccarci sopra e fare conferma. Ok, ho fullata la prima perk. Ovviamente dovete avere gli stravantaggi, i divantaggi eccetera necessari per fare tutto ciò. Io ne ho tantissimi, ma perché li ho farmati. Ed ecco fatto raga, ultima parola, full perk, leggendari, 130, raggio solare. Ora, vi mostro subito gli eroi con cui lo andrò a provare. Ecco qui, calamiti, ma nolesta. Perché questo eroe raga? L'ho già provato in passato. È un eroe che potenzia alcune perk della pistola, specialmente i primi sei colpi del caricatore. Aumentano di danno e di impatto delle pistole. E l'ultima parola ha soltanto sei colpi, quindi è perfetto. E una volta finito il caricatore, ricarica più velocemente. Ci mettiamo in combo a ciste le strisce che incrementa il 70% il danno dei colpi critici con la pistola, quindi perfetto. E come ultimo maestro di granate raga, giusto per far diventare quest'eroe survivalista, ovvero ogni nemico che uccidiamo, ci ripristina tot salute. Detto ciò, andiamo subito in una missione al 130, al 100 scusate, per provarla. Ok raga, eccoci in partita, incastiamoci subito la nostra nuova arma. Eccola qui, ultima parola. Siamo qui con un nostro iscritto. Ciao. Bella, è entrato un po' abusivamente. In più, un player random. Vedo che sta provando ad entrare un altro iscritto, ma non so se lo faccio entrare perché è livello basso. Andiamo subito a provare questa pistola raga. Vediamo se è davvero così precisa. Sì, minchia, minchia se è precisa. Ma non fa troppo danno raga. No, non fa troppo danno, forse dovremmo provarla a distanza ravvicinata. Però, come dicevano le statistiche, bisogna... Sì, sì, ok. Per fare tanto danno non bisogna mirare raga. Quindi dovete essere bravi voi a colpire senza mirare. Anche perché spara più veloce senza mirare, guardate qui. Tanta roba, tanta roba. Andiamo un po' a cercare un accampamento, qualche zombie, eccetera. E vediamo tutto al meglio. Ecco qui, un po' di zombie raga. Una terra. E ricarichiamo subito. Minchia, ricarichiamo qua in due secondi raga. Non è troppo difficile colpire senza mirare. Non è facilissimo, però vabbè, ci prende un attimo l'abitudine. Poi vabbè, con questi piccoli puoi pure mirarli, li sciotti lo stesso. Forse con i mostri della nebbia è meglio non mirare. Con gli altri vuoi benissimo mirare. Andiamo a cercare qualche mostro della nebbia, anche se gli occhi belli già ve l'ho fatti vedere. I blaster vanno giù, che è una meraviglia. Mancherebbe giusto lo smasher, però no. Proviamo ancora con questi altri zombie, usando pure il grido di guerra. Ok, spento proprio raga, squagliato. Male proprio. Ok. Ma, perfetto. Io direi questa combo raga, calamity più ultima parola, è perfetta. Si adattano pure le skin, cioè pistola del far west. Con questo personaggio del far west è perfetta. Vai, ammazziamo altri zombie. Parto già col dirvi che secondo me, per far fuori lo smasher, con questa pistola faremo parecchia fatica. Perché non è adatta proprio per i mostri grandi, possenti, come lo smasher. Però, noi ci proviamo. Ne vedo già uno davanti. Elemento acqua. Quindi sarà ancora più difficile. Però, noi ci proviamo. Aspettiamo almeno che si ricarichi il grido di guerra, raga, e forse è meglio. 22 secondi. Intanto facciamoci. Ok, dai. 9 secondi. Minchia. Corriamo. Ok. Niente, c'è preso la stessa. Ok, grido di guerra attiva. Minchia, raga. Minchia. Squagliato. Non me l'aspettavo. Senza mirare. Sei colpi velocissimi in faccia, raga. Spento proprio. GG. Non me l'aspettavo. Quindi, nulla, raga. Cosa dire? Abbiamo un po' ammazzato tutti gli zombie esistenti. Facciamoci pure questo accampamento e vi spiego al volo come vincere questo contest. Regalerò quest'arma, raga, a tre di voi. Però, senza nessuna dote particolare. Vi basta condividere il video. Lasciate like. Attivate la campanellina. E io. E trarrò a caso, tra i commenti, tre di voi. A che ora? Domani alle 4. Quindi, nulla, raga. Ci rivediamo domani. E... Bene.